Chiudiamo qui la rassegna stampa, a questo punto apriamo la nostra campagna su sicurezza nei luoghi di lavoro voluta dalla TGR in collaborazione con l'INAIL. Vi proponiamo la vicenda del vigile del fuoco della Spezia, Claudio Sampiero, sempre in prima fila per aiutare le persone morto nel 2010 all'età di 72 anni per esposizione all'amianto. Il ministero dell'interno per la prima volta in Italia è stato condannato a risarcire la famiglia. Al microfono di Marco Bartolini parla il figlio e dice mio padre si era fatto una croce, i soldi li vedranno i suoi nipoti. Una sentenza che fa giustizia per suo padre? Una sentenza che fa giustizia per tutti i vigili del fuoco, per tutti quelli che sono stati a contatto con l'amianto, dove ci sono delle categorie che comunque sono abbastanza tutelate. E' una sentenza storica per i vigili del fuoco che per la prima volta viene riconosciuto questo status di lavoratori che sono stati a contatto con l'amianto e quindi a rischio di malattie professionali come è successo a mio padre ma come è successo a tanti altri. Mio padre si era fatto una croce di questa cosa qua. Noi non avevamo dubbi sul fatto che lui avesse ragione, però praticamente viene scritto e questa cosa qua è importantissima per noi a livello emotivo. Ripeto, al di là del risarcimento che poi magari potranno goderne forse i miei figli. Dopo la morte di suo padre non ha mai pensato di cambiare lavoro? No, no, ma il nostro lavoro comporta comunque dei rischi di cui siamo consapevoli e probabilmente è anche la parte più affascinante di questo mestiere. Però più che un mestiere è un modo di vita che non saprei neanche spiegarglielo, è una cosa che nasce dentro. Una sentenza, quella del Tribunale Civile di Genova, accolta con favore anche da Antonio Brizzi, segretario generale del CONAPO, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, che da anni sta portando avanti iniziative a tutela dei pompieri esposti al pericolo amianto. Per il sindacato una conferma? Certo, questa sentenza è stata una conferma che i vigili del fuoco sono esposti all'amianto, quindi naturalmente il riconoscimento del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e quindi tutti i vigili del fuoco all'esposizione all'amianto. Il CONAPO si batte da anni, si batte da anni anche per questa sentenza e naturalmente si batte non solo per questa ma per il riconoscimento di tutte quelle cause che naturalmente magari in Italia hanno condotto la morte di alcuni colleghi. L'esposizione all'amianto è quotidiana perché noi andiamo ad operare in edifici instabili, in discarica addirittura, dove non sappiamo che cosa c'è, non solo ci può essere l'amianto ma anche altri prodotti che proprio non si conoscono. Questa sentenza è all'inizio per poter avere la certificazione definitiva per tutti i vigili del fuoco di categoria esposta all'amianto. Il CONAPO insieme all'associazione AMPA lavoreremo, che sarebbe a amianto pubblica amministrazione, lavoreremo al fine del riconoscimento di questa qui a tutti i vigili del fuoco. Stiamo parlando di una sentenza pilota arrivata al termine di una lunga e difficile battaglia legale che costituisce ora un precedente favorevole anche per gli altri familiari dei numerosi pompieri che nel corso del servizio proprio per la loro particolare condizione sono venuti a contatto con l'amianto. In particolare la sentenza è molto importante perché per la prima volta viene riconosciuta un'esposizione all'amianto sulla specificità del servizio dei vigili del fuoco. Se normalmente l'esposizione all'amianto viene commisurata, un'esposizione in qualche maniera stabile nel tempo, per i vigili del fuoco questo non è possibile da valutarsi perché sono esposizioni fulmine, molto spesso in occasione degli interventi di emergenza quando vanno a intervenire su edifici completamente coibentati in amianto o sulle navi o nei cantieri navali, in cui peraltro c'è l'ulteriore aggravante che quando c'è il fuoco l'amianto viene rilasciato ed è nel momento più pericoloso, in cui c'è lo spolverio più pericoloso. Non solo per i vigili del fuoco ma per tutti i lavoratori delle pubbliche amministrazioni. La situazione attualmente dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni è drammatica perché riguarda la presenza d'amianto. L'amianto è presente nonostante sia fuori legge già dal 92, è presente in tutte le pubbliche amministrazioni, è presente attualmente sugli elicotteri dei vigili del fuoco stesso, della finanza, è presente nelle scuole, è presente presso gli uffici delle agenzie delle entrate, nei tribunali e spesso, il più delle volte, non c'è tutela per queste persone. E a proposito di amianto, guardate un po' come si lavorava un tempo nel porto di Genova. Bianca Scartezzini ha ripescato dalle techerai delle rare immagini di camalli. Vediamo. Per più di 30 anni, dalle banchine del porto di Genova, i camalli della Compagnia Unica hanno lanciato un grido d'allarme denunciando il pericolo causato dai sacchi di amianto di passaggio dal porto provenienti da Canada, Unione Sovietica e Sudafrica. A volte i camalli ci dormivano sopra, i sacchi di amianto lo maneggiavano, l'hanno sicuramente maneggiato senza alcuna cautela, almeno fino ai primi anni 80, non solo tirandolo fuori dalle stive ma anche manipolandolo alla rinfusa. 2500 ad oggi i casi di mesotelioma in Liguria, evidenziati dal RENAM, il registro pubblico di questa patologia. Non mi risulta che a livello penale vi sia un'indagine in questo senso. E quindi? E quindi noi dobbiamo procedere con le cause civili, quindi con richieste di danno in sede civile nei confronti dell'autorità portuale che secondo noi era quella che esercitava non solo il controllo della sicurezza in porto, ma anche a livello imprenditoriale proprio il lavoro su questa partita dell'amianto. Una decina i casi presi in esame dal Tribunale Civile Genovese, casi sollevati da familiari di ex camalli o in un paio di situazioni da parenti di dipendenti diretti dell'allora Consorzio Autonomo del Porto. Questi casi sono tutti casi di malattie professionali riconosciute dall'INAIL. Li stiamo portando davanti alla magistratura del lavoro sotto il profilo del risarcimento del danno civilistico nei confronti dell'autorità portuale che esercitava il controllo e anche l'attività imprenditoriale in porto in questo settore. Noi chiudiamo qui questo approfondimento, ne parleremo ancora nel corso delle prossime edizioni di giornale.